Sono 42 le famiglie residenti nella palazzina numero 3 di via Castore al civico numero 7, che da due mesi si ritrovano senza acqua dentro casa. Rubinetti completamente a secco e nessuna possibilità di lavarsi, cucinare o fare il bucato con l'acqua corrente. La situazione si potrà e da oltre due mesi e non accenna a migliorare. La rabbia dei cittadini alle stelle, sia per la mancanza del servizio che per la beffa di doverlo pure pagare e in maniera salata. Nonostante i numerosi proclami fatti a calta acqua, il problema non è stato risolto e fino ad ora sono stati costretti a richiedere l'intervento degli autobotti, per cui hanno già speso solo nel mese di aprile 580 euro. Da due mesi che non prendiamo acqua abbiamo comprato le autocisterne. Il fatto è che pagando l'autocisterne in automatico passa dai condatori e calta acqua la condeggia. Viene condeggiata quindi quest'acqua noi la paghiamo per due volte. Per non parlare di tutte le segnalazioni, centinaia di segnalazioni e non si vende mai nessuno. Hanno mandato la settimana scorsa la ditta per cambiare il condatore che era tappato. Il tempo che ha mandato il condatore è arrivata l'acqua, il tempo che la ditta è andata via hanno tolto di nuovo l'acqua e siamo rimasti così da mesi, mesi che non se ne può più. È una vergogna, proprio una vergogna. È una mortificazione. Stiamo arrivando a un punto, loro cercano di farci arrivare a tal punto di farci ammazzare l'uno con l'altro, ma qui non si vede nessuno. Nessuno ha interesse. È andata a finire che ognuno dobbiamo pensare per noi stessi. Ognuno si deve dare verso da sola. È una vergogna, proprio una vergogna. Ci sono disabili, ci sono persone anziane, ci sono bambini, ci sono ragazzi che lavorano, ci sono ragazzi che vanno a scuola. Cioè la mattina non lo so io come ci dobbiamo lavare, come dobbiamo pulire, come compriamo il cibo già pronto, perché giustamente non essendoci acqua come le lavi le cose. Una bella rabbia che abbiamo dentro tutti, perché non è che è giusto. Vengono a cercare i voti e poi ci lasciano sempre a vuoto, non c'è acqua. Sì signora, ci promettono. Signora, signora, sicuramente facciamo l'intervento dell'acqua, facciamo l'intervento del condomino e tutto, ma invece non è vero. È tutto una bugia. L'importante è che loro prendano i voti, ma questi voti a chi li diamo? A nessuno, perché si possono mettere proprio, perché voti non ce ne saranno per nessuno. Come vengono saranno veramente cacciati a caccia in gula. Tutti i chingue saranno. I residenti hanno chiesto aiuto anche al sindaco e ai carabinieri, ma ad oggi nessuno è ancora intervenuto. Ognuno si arrangia come può. Vasche e bacinelle piene, risparmio fino all'ultimo goccio di quello che ormai per loro è diventato un preziosissimo liquido da non sprecare e l'umiliazione di chiedere ad amici e parenti di fare il bucato o una semplice doccia. Farsi la doccia è diventato un evento straordinario, pure farsi il bidet, perché non ci possiamo più lavare nemmeno la faccia. Allora dobbiamo risolvere questo problema con loro o senza di loro, ma lo dobbiamo risolvere. Sono soprattutto i bambini e gli anziani a soffrire, nonché i disabili. Le ringraziamo a tutti, a Caltacqua o così al sindaco, personalmente, perché il sindaco aveva fatto delle promesse a noi a mandarci qui l'acqua e ci ha mandato gli operai. Ci ha cambiato il contatore, come vi è stato già detto. Il contatore funziona, ma l'acqua non arriva. Abbiamo contattato telefonicamente i responsabili di Caltacqua, che hanno promesso di attenzionare la vicenda, avviando un'indagine sulla mancata distribuzione dell'acqua in questa zona di Marchitello.